Ingredienti Dosi per 4 persone 350 grammi di pappardelle 80 grammi di prosciutto crudo Un pezzetto di cipolla Rosmarino Mezzo mestolo di brodo 300 grammi di pomodori pelati Sali Pepe nero e parmigiano grattugiato Preparazione Stufare nel brodo un trito di cipolla Prosciutto e rosmarino e unire i pomodori Regolare di sale e pepe e cuocere a fuoco basso per circa 30 minuti girando di tanto in tanto Cuocere le pappardelle in acqua salata Scolarle e condirle con il sugo preparato e con il parmigiano a piacere Il piatto è pronto Buon appetito!